L'Arcidiocesi di Lucca e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara firmano un protocollo di intesa per dei nuovi PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Si tratta di progetti formativi che, come nel caso dell'alternanza scuola-lavoro, puntano ad avvicinare formazione ed esperienza professionale. Nel caso specifico apriranno agli studenti e ai docenti delle scuole superiori secondarie il patrimonio storico, artistico e anche le attività educative, ricreative ed assistenziali dell'Arcidiocesi. L'obiettivo è favorire l'acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze in ambito culturale, tecnico-amministrativo o ancora di servizio alla persona. L'Arcidiocesi può offrire moltissimo da questo punto di vista, perché voi sapete che l'alternanza si muove da una parte sul discorso proprio anche tecnico, formativo e dall'altra però abbiamo tutto quell'aspetto, quel mondo della ricerca, abbiamo tutto quel mondo anche della formazione in senso generale, gli studi archivistici, che possono essere importanti momenti di riferimento per i nostri studenti. Si tratta dunque di un'intesa che guarda in particolare alle mutevoli esigenze del mondo del terzo settore, della cultura e della promozione e che, soprattutto, guarda al mondo dei giovani, assicurando al contempo la coerenza delle competenze con gli obiettivi formativi previsti. La novità di questo approccio è che tutti gli uffici diocesani insieme si sono messi a servizio dei giovani, questa è una cosa importante, perché i giovani hanno bisogno che gli adulti insieme si mettano al loro servizio in questo momento particolare, con diverse opportunità legate ovviamente al tipo di attività che fanno gli uffici, ma al di là di questo penso che sia importante che i giovani percepiscono che c'è un mondo adulto che si dà da fare per loro, per offrirgli opportunità, per aiutarli a crescere, per trovare anche, diciamo così, quell'orientamento che li può aiutare a fare le scelte giuste per il futuro. Quindi questo penso sia molto importante.